Go, 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 goodbye motherfucker! Su combine Raga volevo dirvi Questo qua dovrebbe essere il video Delle 6 e mezza Di mercoledì 2 febbraio Nello scorso ho sbagliato Mi sembra di aver detto un 6 e mezza Ma quello lì invece sarà delle 3 e mezza Comunque Contro abbiamo un italiano E insieme forse abbiamo un altro italiano anche Mamma mia Spero non sia l'italiano Perché se no Dove cazzo vado Oddio LOL I jumpshot sono i migliori Su sto gioco Se vuoi giocare bene bisogna fargli i jumpshot inutili L'avete visto? Oh io mi prendo l'headshot qua Camper di merda Non mi ha spaventato Oh 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 No mi sono incastrato Non pensavo di essere su B Ce n'hai uno dietro Colione Era l'italiano raga Dov'è qua? Pezzo di merda Perfetto Sanguinario Oggi mi sento in gran forma Peccato non lo sia stato per tutto il giorno di ieri Siccome ero stanco che non ho praticamente dormito ieri perché Ho fatto after per sti cazzi di doppi punti Non si rialzerà Tu e il tuo pompa di merda Ah è quello italiano Ecco perché Su combine gioca a sponchillare Guarda che tripla Mamma mia Questi raga sono scarsissimi Scarsissimi Minaccia risolta Ragazzi sono scarsissimi questi Mamma mia 21-1 primo round Cos'è sto lag Opa la Basta fotermi le kill però Raga non dovevo attivarli questi C'è A questo punto provo il nuclear So che non lo farò però C'è nessuno Cazzo tiri Ancora l'arco Mamma mia Se morivo con quello Altro Altro Ma si c'è ancora tempo Bastard Bastard Nato di qua Guarda che vanno tutti di là Ragazzi sto visata Non lo sto usando Porco giuda No A quanto sarò morto A quanto sarò morto Porco giuda Sono stato No forse a 15 Vabbè Vabbè No Porco giuda Mi fa incazzare Per non cadere Avevo schiacciato Cazzo ci fa tutta questa gente Ma quello lì non l'ammazzano Ammazzano a me Oh Ma 28-5 primo round Questa deve essere proprio una bella partita Guardate L'italiano Cry 500 Cov Vita 5-17 Prima round Finisce qui raga Eccoci G-slide Tanto i raps Tiriamoli di nuovo Tanto Posso per 4 secondi Guarda posso Fa culo Ora faccio la partita per le kill C'è raga Guardate quanto so scarsi Mamma mia So scandalosi No merda Merda bastardo Sono qua sopra No ma cazzo Non si è agganciato Eh Ah ok Raga non riesco mai a farlo Sto rancore di merda 42-8 I raps sono finiti Mamma mia Si è Si è grappato per un pelo Ora sono finiti i raps Merda raga Secondo round Io i secondi round Li faccio sempre cagare Guarda quello che campera là Fottuto idiota Guardalo Guardalo L'idiota L'ho fottuto proprio alla grande Quello Raga però delle volte non muoiono Eh 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 vatti dal cazzo Tu la tua cazzo di minigun Guarda No Che schifo che fanno Quelli che si fermano lì Aspettano Ok Ok Dove cazzo è? Doppio rancore Dammi doppio rancore Si cazzo Ho sbloccato allora Ho sbloccato Eh infatti No cazzo Volevo prendere un altro Visato all'ultimo Che palla raga Dovemmo aspettare un mesetto Per i dlc Bastardo Guardalo lì Bastardo Dai che un 60 Un 60 più Questa partita Non ha fatto il draw Non ha fatto il Jump shot Vabbè Ragazzi non faccio Per due kill Due kill Mi mancano Per fare 60 più Adesso Bella Lì Finisce qui Un 60 3 13 Qua finisce la partita Come sempre se vi è piaciuto il video Vi ricordo di lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale Da Fabcan è tutto Bella raga